Jingle Spot, il Tribunale delle Romane, Rete Oro, Canale 18, tutti i venerdì sera. In questo momento l'olandese si è fermato ai microfoni di Lazio Style Channel. Mi sento molto bene, sono contentissimo di essere tornato. Ho accettato subito la situazione, in questi casi inizialmente si può essere tristi, ma per stare bene ho voluto guardare al futuro. Ho lavorato tanto per essere qui oggi. Mi è piaciuta molto l'accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni, non potevo aspettarmi di più e sono molto contento di stare con la squadra in campo e con gli allenamenti. Non sono stato contento di aver ritrovato solo gli olandesi, siamo una squadra e siamo tutti insieme. Poi sul futuro, adesso prima finiamo la stagione al meglio, poi pensiamo alla prossima. Inzaghi mi sembra molto bravo sia tatticamente che come persona, ho voglia di lavorare con lui. Sono contento di essere tornato qui a Roma, non vedo l'ora di vedere i nostri tifosi. Tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24 vedi il Tribunale delle Romane su Rete Oro, canale 18 e 518 del Digitale Terrestre. Il Tribunale delle Romane è su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube dove potrai vedere le ultime puntate. Vieni a trovarci!